eccoci qua salve a tutti amici bentornati sul mio canale bentornati dal vostro giugio io ragazzi in questo lunedì 26 agosto dobbiamo registrare un nuovo episodio di un reato al giorno parlando naturalmente sempre dei cartonati prescritti che come sapete non perdono occasione per delinquere e anche in questo caso ragazzi c'è una novità una novità succosa di cui andremo a snocciolare il contenuto in questo video che porta alla luce l'ennesimo reato l'ennesima operazione fuori legge condotta da Beppe Marotta e di suoi ne parliamo naturalmente in questo contenuto ma prima di tutto come al solito vi chiedo un like fondamentale per la circolazione del video come è fondamentale l'iscrizione al canale ragazzi per far crescere i decibel della nostra protesta dobbiamo necessariamente essere in tanti perché queste notizie vengono riportate addolcite e abbellite vi viene indorata da pillola dai media mainstream quindi se volete conoscere la verità la verità quella sincera quella che va oltre le maglie della cosiddetta censura mainstream dovete likeare iscrivervi e campanella delle notifiche per rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrà a produrre su questo canale allora ragazzi dicevamo oggi lunedì questa sera gioca la juventus in una delicatissima sfida al bentocodi che ci può dare la testa della classifica naturalmente o in quest'ora che sto registrando parliamo delle prime ore del mattino ancora non conosciamo la formazione i tanti acquisti che stanno arrivando e le voci dei nuovi acquisti stanno spaccando e spappolando i fegati degli anti juventini però in questo video come vi ho anticipato nel preambolo dobbiamo parlare dell'associazione cartonata della non iscrivibile come la chiama il mio amico sergio vestiglio che praticamente praticamente ha compiuto un nuovo reato perché ragazzi dopo aver iscritto a bilancio 60 milioni che non sono mai arrivati di un vecchio sponsor dopo aver avuto come main sponsor di maglia petson però hanno preso il sito internet che dà le informazioni e quindi naturalmente non va diciamo va ad aggirare la norma no fatta la legge trovato l'inganno va ad aggirare la norma quindi non va a ricadere nel decreto dignità hanno trovato un nuovo modo per delinquere lo sponsor quello che sul braccio praticamente sono andati a prendere uno sponsor di criptovaluta ma questo sponsor ragazzi praticamente è uno sponsor un sito secondario perché il sito primario di questo loro grandissimo nuovo sponsor era stato bloccato nel 2021 e dichiarato e dichiarato illegale dalla consob perché perché praticamente era residente nelle isole marshall gli agiva sul territorio italiano senza poi avere nessuna delle necessarie autorizzazioni e sappiamo ragazzi che è molto molto semplice molto molto semplice che tra criminali ci si aiuta quindi tra fuori legge ci si viene incontro e ci si viene a contatto e quindi questa nuova agenzia che vi ho mostrato appunto diventa lo sponsor di lo sponsor secondario dell'inter ragazzi quindi dopo gli imbrogli ragazzi dopo gli imbrogli dopo il falso in bilancio dopo il fallimento dopo lo sponsor di maglia fittizio dopo imbrogli di ogni genere ragazzi il bilancio dell'inter è praticamente una polveriera noi noi andiamo ragazzi andiamo a registrare l'ennesimo episodio di un imbroglio clamoroso da parte dei cartonati naturalmente tutto questo senza senza che le istituzioni né sportive quindi il nostro buon amico chi ne che si gode la sua vacanza al mare naturalmente chi ne ragazzi viene allertato solo ed esclusivamente quando si tratta di juventus si è dimenticato dell'affario simen dove hanno venduto in cambio pizzaioli e parcheggiatori a gogo si è naturalmente dimenticato delle plus valenze fittizie tra roma e inter che hanno portato davvero a degli imbrogli a dei falsi in bilancio mostruosi e figuriamoci ragazzi se può essere sveglio per questo oltre a chi ne c'è il procuratore capo della repubblica di milano marcello viola che potrebbe naturalmente intervenire ma sappiamo tutti per sua bocca non per nostra bocca che dopo aver combattuto la mafia e dopo essere stato un baluardo della lotta alla mafia in sicilia ha deciso ragazzi di vendere l'anima al diavolo e di dare la priorità al tifo anziché alle indagini quindi quanto si tratta di inter a lui viene in mente il fatto che l'inter sia la cartonata quindi la squadra del suo cuore dai tempi dei caffè di rera ragazzi io vi chiedo scusa però sto girando all'aperto c'è un pochino di vento un pochino di turbolenza ma spero che sia chiaro il discorso detto questo ragazzi come vi ho ampiamente spiegato dopo betson quindi che lo sponsor di maglia dell'inter c'è gate lo sponsor sulla maglia enesimo doppietta per l'inter ragazzi due sponsor sulla maglia due sponsor illegali due stelle di cartone sul petto uno scudetto di cartone ragazzi io voglio domandare ai tifosi interisti se avranno mai qualcosa di lescito se entreranno mai a far parte del sistema legale come e fare le cose come vanno fatte ecco io solo questo voglio domandare ai cartonati che naturalmente continuano a venire qui ad attaccarmi ad insultarmi prima che io poi li banni io vorrei semplicemente domandare questo adesso avete fatto tutti gli imbrogli possibili immaginabili appunto li abbiamo già nominati partendo dai caffè di herrera passando per appunto il passaporto falso di recoba che è stato tra l'altro tra l'altro è stato condannato dalla legge e quindi sia oriali che recoba sono considerati dei pregiudicati e non lo dico io lo dice un tribunale avete superato indenne calciopoli grazie alla prescrizione avete superato un fallimento un fallimento avete superato lion rock e ancora non riuscite a fare una cosa secondo le regole anche per vincere con una squadraccia come il lecce avete bisogno della spinta da dietro come meglio meglio sorvolare su questo particolare e cosa dire anche marelli anche marelli che tutti sappiamo essere un simpatizzante dell'inter ha detto che il rigore assegnato all'inter per il fallo di turam sul difensore del lecce perché di quello stiamo parlando un fallo di turam che il primo a trattenere il difensore del lecce è chiaramente ed equivo inequivocabilmente un calcio di rigore senza se senza ma dubbio naturalmente lui dice dubbio per non dire che un rigore ridicolo che non sarebbe mai stato assegnato a nessuna squadra al mondo tranne che diciamo alla squadra del sistema dove è prefigurato il fatto che debba vincere e quando non riesce a vincere naturalmente c'è l'aiutino c'è l'aiutino di stato ecco per dire così perché ormai l'inter è diventata la vergogna la squadra della figgici fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti massima condivisione di questo video mi perdonerete se questo contenuto dura qualche secondo in meno ragazzi ma registrando l'aperto davvero è quasi impossibile tenere un'inquadratura ferma e riuscire a fare meglio di quello che ho fatto oggi io vi ringrazio se mi avete se avete avuto la pazienza di riascoltarmi nonostante le vicissitudini tecniche e fino alla fine contro tutte e tutte sempre comunque forza juventus è nel dubbio un bel intermerda che per cominciare la nuova settimana non guasta mai grazie a tutti